La mia casa ha due camere di letto, una cucina, un bano e un salotto. La mia camera di letto ha un letto, gliscafoli e una scrivania. In la mia camera di letto mi addormento. La mia cucina ha un forno, una cucina e una lavastoviglie. La mia cucina ha il friggio morifero e un microonde. In la mia cucina io faccio calazione. Il mio salotto ha un televisore e un camere. Il mio salotto ha un divano, una lampada e un tavolino. In il mio salotto guardo la televisore.